Anche Città di Castello sarà ad Expo 2015 a Milano sabato 26 settembre, come ha preannunciato questa mattina il vice sindaco di Città di Castello, l'assessore Michele Bettarelli. L'abbiamo data un po' come anticipazione per rendere anche omaggio agli amici del fumetto che anche quest'anno ripresentano la tredicesima edizione di una mostra ormai importante e credo che come possiamo in parte accennare i filoni che contraddistinguono Città di Castello sono sicuramente il rinascimento, il contemporaneo con Burri, ma anche le manifestazioni legate al cibo, quindi il tartufo e anche all'arte, alla cultura. Quindi penso che il fumetto sia un gran bel volano per la pubblicità del nostro comune. Quando sarà presente e in che contesto? Preferirei non sbilanciarmi troppo, proprio perché poi verrà fatta una conferenza stampa doc. L'anticipazione era solo legata al fatto che utilizzeremo come promozione del nostro comune la bellissima immagine di Manara con la sora Laura, che quindi rende molto molto bene l'idea di Città di Castello, storia, tradizione, leggenda, ma anche eventi importanti che ci sono ad oggi, quindi con la mostra del fumetto che fra l'altro sarà proprio in corso quando saremo all'Expo.